buongiorno buongiorno benvenuti o bentornati sul canale youtube smc il canale youtube legato il gruppo facebook svapo musica ma questa volta ma quest'oggi facciamo le cose rapide venite a iscrivervi venite a salutarci venite a lasciare un like venite a fare quello che volete faccio un brevissimo video proprio brevissimo per una cosa che io ho trovato particolarmente utile dedico questa piccola questo piccolo intervento che comunque voglio fare su youtube di modo che magari possa goderne anche appunto chi non non partecipa al gruppo facebook anche se questa è la tipica diretta da facebook voglio dire ok perché se per caso a qualcuno può interessare allora e ho recuperato un una cosa che a me è particolarmente utile io sono filippo buongiorno eccetera ho recuperato una cosa che a me è particolarmente utile mia parte mia particolarmente utile perché diversi di voi sanno che io giro parecchio ok quindi spesso sono in viaggio spesso dormo in giro spesso un'altra delle mie caratteristiche il fatto che sono disordinato ci si accorge anche che sono disordinato mentalmente dal fatto che non sempre io inizio un discorso e lo porto a termine anche durante queste chiacchierate ok una delle cose che mi ha sempre fatto piacere o comunque che ho sempre cercato è una scatola porta attrezzi da rigenerazione ovviamente non solo che avesse delle misure che fossero adatte idonee ai nostri ai nostri ai nostri utilizzi il video di quest'oggi sarà un video fatto cioè lo spezzetto questa volta perché voglio farvi vedere eccetera adesso devo cambiare inquadratura e siccome non so se riesco a fare una cosa vediamo se riesco a fare una cosa aspettate un attimo no ok quello è un tasto di un altro genere ho capito tutto siccome devo cambiare l'inquadratura e non me lo fa fare dal telefono ma lo voglio fare dal telefono questo lo farò unendolo poi con i movie cosa che stavo dicendo credo che dalla settimana prossima avrò un posto dove farvelo cercare va bene la scatola è questa ok guardate che non è niente di nuovo è semplicemente io la trovo molto a misura nostra io lo trovo la trovo particolarmente adatta a quello che sono le nostre misure o a quello che secondo me abbiamo bisogno di mettere dentro va bene adesso cambio inquadratura terrò il telefono con la mano e cercherò di far vedere va bene quindi non prendete paura questo è quello che oggi mi è venuto da fare ok arrivo subito allora eccoci qua io spero che si riesca a vedere non è niente di non ho anche in questo caso nessuno ha scoperto l'acqua calda e si tratta semplicemente di qualche cosa che mi pare stia a misura plastica vediamo se trovo un metro ve lo misuro se trovo rapidamente un metro quello misuro allora è 23 e mezzo per 16 e mezzo quasi 17 profondo 76 e mezzo ok la comodità qual è chiusure ok si apre sopra c'è uno scomparto lungo dove io ho messo i fili eccetera ho messo una pompetta una silinga in 80 cantal acciaio una penna perché di sì qui ho messo un po di cianfrusaglio ho messo una boccetta poi un paio di come si chiamano aghi per sicurezza delle vrap per le batterie un po di o ring un po di cazzatine eccetera eccetera ok le brugolette ammesso che servono poi degli altri fili diversi se per caso anche sono in giro è una sera che ho voglia di di fare pazzie si alza ok qui ci stanno tre modelli di cotone muci fiber fiber cotton e team vape forbice come si chiama tronchesina e cacciavine pinza 23 come si chiamano pinzette eccetera per fare le cose eccetera e il gig vi dico la verità io vi ho messo il gig perché perché di sì ma in realtà io uso spesso i rotoli chiodi poi ho messo una una come si chiama una siringa grossa se nell'andare in giro trovo non so un liquido che ho voglia di preparare rapidamente eccetera eccetera ho messo un cacciavite stella un cacciavite a coso a taglio questo è un multi tool sapete di quelli che c'è tutta la cosa perché non si può mai sapere che cacchio può succedere dimenticavo ho messo un cacciavite celeste perché il cacciavite celeste voglio dire prima o poi o smettono di metterlo oppure io ve l'ho già detto ragazzi ci faccio una battaglia assurda contro questo cazzo di cacciavite che lo odio e vedete sta tutto molto sta tutto io trovo che stia tutto molto in ordine e siccome io dottora l'ho preparato adesso e poi mi sono messo a fare il video e poi lo voglio portare in fiera così come questo non perde niente non si apre eccetera mi sembra molto comodo ok è tutto ben strutturato cioè ripeto questo è un porta è un porta e vabbè insomma le vitine se sono andate sono spostate da destra a sinistra vabbè questo forse magari basta stringerlo o insomma comunque la vita queste due vitine si sono spostate da quella parte non fate altro che fare come fanno quelli più bravi di me che prendono un sacchettino ok mettono le vitine tutte insieme in un sacchettino e magari gli o-ring ripeto io l'ho appena preso l'ho appena preso portato a casa e ve l'ho voluto far vedere prendete due sacchettini tipo questi ci mettete dentro in uno gli o-ring in uno le vitine i cosi eccetera così avete ancora anche separato anche lì ovviamente c'è posto per farci stare ancora un sacco di altra cosa voglio che ci stanno gli atomizzatori ci stanno c'è ci sta tanto ci stanno le batterie voglio dire vogliamo una cosa che adesso guardate volendo uno di questi scomparti è fatto per le batterie ma volendo anche mettendoci sotto qualcos'altro la batteria ci sta lo stesso anche qua e vedendo evidentemente quindi cioè c'è la possibilità di far tante cose sono mi sembra che sia una cosa io l'ho trovato ne ho altri ripeto tutti probabilmente ne abbiamo ancora altri mille però questo ripeto l'ho trovato particolarmente utile particolarmente utile ok mi sembra sia a misura a misura va per ok tanto per chiudere il discorso ripeto l'ho già detto dieci volte lo dico un'altra volta non ho scoperto niente è un porta minuteria come tanti altri però un porta minuteria che ha delle dimensioni delle misure che mi sembrano essere fare al nostro caso c'è la maglia macchiata fare al nostro caso nostro inteso dei vipers eccetera o sia chiaro che nessuno ci vieta di utilizzarlo per io l'ho passato per caperi ho detto avrebbero caricate a nessuno vieta di tenere in ordine alcune cose all'interno di un all'interno di una cosa del genere anche da tenere sulla scrivania voglio dire non c'è niente di non c'è niente di che non chiedetemi dove lo trovo cosa eccetera perché probabilmente si trova da qualche ferramenta eccetera io ve l'ho solo fatto vedere solo voluto far vedere come sempre nonostante qualcuno abbia chissà quali pensieri il mio ragionamento non è legato a dovete comprare farvi vedere qualcosa perché compriate no vi sto facendo vedere che evidentemente esiste ora io sono di padova e l'ho trovato a padova non lo so se se può venire in mente a qualcuno di prenderli e metterli in vendita adesso mi è venuto in mente adesso non lo so proverò a chiedere ai ragazzi di vetro di store visto che visto che loro hanno visto che noi comunque abbiamo questo bel rapporto magari posso ragionare se provare a chiedere se gli interessa se gli interessa a provare a cercarli per metterli in vendita ok io parlo di loro semplicemente rifatto per amicizia insisto ripeto non è niente non ho scoperto niente ok è una scatola scusate il mio veneto esce è una scatola porta minuteria ripeto è una scatola porta minuteria che ha delle misure che assomigliano tanto alle misure che noi che a noi va per servono tutto qua resta tutto chiuso il cotone chiuso insomma mi sembra io l'ho trovata piacevole mi è venuta voglia di condividerla come faccio regolarmente ok questo è quello che è successo il video serio serio di questa roba voglio dire ok il video vero ve lo carico ve lo carico questa sera questo è proprio un flash che mi è venuta così iscrivetevi mettete un like mettete il dislike tanto lo so che lo mettete ma non importa e giustamente ci mancherebbe altro non è che svapate e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao